La concessionaria all'auto vi augura buone feste. La neve è ritornata ad imbiancare la valtellina. Contrariamente a quanto annunciato dai meteorologi, la coltre bianca è caduta anche al di sotto dei mille metri, creando i consuiti ed inevitabili disagi sulle strade. I mezzi spalaneve e spargisale, entrati in funzione già da questa notte, non hanno però potuto evitare la formazione del ghiaccio. La pioggia caduta in giornata con l'abbassamento delle temperature si è presto trasformata in una lastra pericolosa per gli automobilisti, poiché è invisibile all'occhio. Numerose le automobili di pullman di linea provenienti da montagna in valtellina che per non correre i rischi sono stati dotati di catene da neve. Ma il ghiaccio non è l'unico problema sulle strade. Le lame degli spazzaneve hanno, come sempre accade, diverto parte del manto stradale, creando le tanto temute buche, le nemiche numero uno degli automobilisti. Delle vere e proprie voragini, quelle formate si lungo la statale 38, dall'Alta Valle al Morbegnese, soprattutto in località Tartano e Trezenda, ma anche all'ingresso di Sondrio in zona Trippi. Alcuni utenti, come segnalato dall'Apple Strada, hanno persino danni ai veicoli. Alcuni utenti, come segnalato dall'Alta Valle al Morbegnese. Grazie a tutti